Qual è il livello del polo stato attuale del Po oggi? Il Po sta calando, abbiamo dei livelli di magra importanti, per esempio nella zona di Boretto, dal luogo dal quale io provengo attualmente siamo sui meno 350, comunque in linea generale ragionando in termini di portata, la portata è quella che determina i livelli, siamo sull'ordine a Valle di Cremona di circa 400 metri cubi al secondo, penso nella zona di Piacenza saremo sui 300-350, quindi sono valori importanti ma sono ancora distanti dai valori minimi del 2003-2006. Certo è che le esigenze idriche per l'agricoltura sono importanti e quindi le derivazioni portano il fiume a diminuire lentamente se non ci sono portate che vengono dai monti, che vengono dagli affluenti e ad oggi le uniche portate che possono derivare sono dai bacini montani, dai laghi, dai bacini d'oro elettrici. Proprio per tenere sotto controllo la situazione, domani ci sarà un incontro importante? Sì, domani dovrebbe esserci una cabina di regia convocata dall'autorità di Bacino per fare un po' il punto della situazione, cabina di regia che viene convocata quando ci sono queste situazioni di emergenza e il tentativo è di fare poi il punto della situazione, almeno presumo, verificare con i responsabili dei consorzi dei grandi laghi e dei bacini montani se ci sono le condizioni per un ulteriore rilascio che consenta di mantenere la portata attuale o comunque di non farla diminuire più di tanto fino alle prossime perturbazioni. Grazie Grazie Grazie